Le ragazze di seconda divisione femminile A hanno battuto nettamente con un secco 3-0 la Sattel nella palestra della scuola media Giacomo Leopardi in Grotta Mare. Una partita senza storia per le ragazze di Ciabattoni, che hanno chiuso in 50 minuti il match con i parziali di 25-8, 25-14 e 25-15, confermando il terzo posto in classifica nel girone B. Nulla hanno potuto fare le grottammaresi di Mister Maroni, che dopo un orribile primo set hanno dato qualche piccolo spiraglio soltanto nel finale del terzo, meritando di essere l'ultima forza del torneo. Con l'arbitraggio di Lucrezia Curzi, Sattel 0 e Picard Sam Volley 3.